A sapere cosa ne pensa lei, tutta questa vicenda, le parole di Borghi, il 2 giugno, io insisto nel dire che non arrivano le richieste di dimissioni in un giorno qualunque, arrivano il 2 giugno, nel frattempo c'era stata la parata, era arrivato Mattarella, la richiesta di dimissioni, il fatto che Salvini dice il nostro rispetto, che Giorgio Meloni dopo un tot di tempo dice mi sembra, è bene, mi complimento con Salvini che ha messo a posto la questione, che storia è? Una storia ridicola, il giorno della festa della Repubblica attaccare il Presidente della Repubblica, la Lega si deve vergognare e io sono orgoglioso di aver contribuito insieme ad altri a eleggere il Presidente Sergio Mattarella nel 2015 quando Matteo Salvini diceva che lui preferiva Putin, il mezzo Putin diceva allora, io sono orgoglioso di aver mandato a casa Salvini che era in mutande al papete nel 2019 a chiedere i pieni poteri, se non l'avessimo bloccato avremmo avuto un Presidente della Repubblica sovranista e aggiungo, io sono anche orgoglioso di aver bloccato il disegno di Meloni, Salvini e Conte che insieme volevano nominare e leggere alla Presidenza della Repubblica nel gennaio 2022 la capo dei servizi segreti, perché le istituzioni sono una cosa seria, orgoglioso dunque di stare dalla parte di Mattarella, le parole di Borghi sono parole indecenti, la pezza che ci ha messo la Meloni è una pezza tardiva, ma la verità è che loro ci godono a far così. Lei non pensi che gli è scappato, non è voce della senfuggita, loro scientemente attaccano il Presidente della Repubblica quando il Presidente della Repubblica è all'altare della patria a rappresentare tutti, perché rappresenta lei, rappresenta me, ma rappresenta anche Borghi e Salvini. Questo è il punto delicato ed è il motivo per cui chi chiede meno Europa elegge Borghi al Parlamento europeo, chi seguendo il suggerimento di Emma Bonino e di molti di noi vota per Stati Uniti d'Europa e legge delle persone che sanno cos'è la decenza istituzionale. Grazie a Matteo Renzi, grazie davvero. Alessio, agenzie? Un tweet di Claudio Borghi, l'avete citato poco fa, presentato insieme alla senatrice Pucciarelli della Lega, un'interrogazione per i motivi del silenzio dei militari del gruppo operativo Incursori a cui si appare sia stato imperito di gridare il tradizionale decima durante la parata del 2 giugno. La tragedia di un uomo ridicolo che punta ad andare in Europa parlando male dell'Europa. Ragazzi, sta facendo campagna elettorale e mette nel mezzo anche il Presidente e le istituzioni. Ridicoli. Grazie di nuovo a Matteo Renzi.